accettare il proprio corpo bisogna farlo sempre ricordatelo signore e signori max samaritani guarda che positività max samaritani sicuramente in tanti già l'hanno visto ecco se qualcuno non mi avesse ancora visto ci vuole un oculista ma bravo grazie come il mio perché il mio mi ha detto che sono astigmatico quindi lei non riesce a vedere bene i contorni? sì ma non preoccupatevi a me interessa vedere bene i primi secondi del resto proprio no 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 non ci sono più problemi eh intendevo le figure le lasagne grazie mille e grazie alla total positivity io penso a grandi valori penso al peso dell'umanità ah come Diderot no come Elodie ma che c'entra Elodie? parlavamo d'altro l'omelette grazie ma perché ordine cose? e infatti ho cominciato anche a pensare al mio di peso sì sì ho cominciato dall'alimentazione e cosa ha fatto? e ho capito che se abbini i cibi giusti poi non hai più quel senso di fame io ad esempio ad esempio io prendo 100 grammi di pasta ci abbino 400 grammi di pasta sono sazio no ma non funziona così non puoi abbinare la pasta con la pasta eh no ma funziona eh ma è tanta pasta poi vabbè portatemi delle frittelle e via e poi ho fatto anche un po' di movimento oh bravo finalmente sei andato in palestra eh certo ma è bellissimo è bella eh ho fatto le flessioni mi son messo lì ho messo le mani a terra son sceso e son rimasto dai ma che bello sono andato avanti due ore così eh a terra? sì poi a casa invece ho fatto ancora un po' di allenamento sì però ho fatto una ginnastica dolce movimenti lenti facevo così eh perché a casa nostra al frigo ha due ante no? e allora è così che immagino lo sforzo eh eh ma infatti ma ero stanco devi aprire le non è che devi aprire grigliata mista eh grazie ma infatti ero stanco stanco alla fine mi sono buttato sul letto e a casa noi abbiamo un materasso in memory di ultima generazione io quando sto per sdraiarmi lui dice minchia è tornato è memory bro è proprio memory no non è quello ma non hai mai provato a fare che ne so sport di gruppo eh sì ho provato ho provato una volta a giocare a calcio sì e è andata così praticamente sono arrivato e mi hanno detto tu che sei grasso vai in porta e io va bene voi che siete magri andate a fai no 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 è la total positivity ho capito ho capito la total positivity però anche le parole hanno un peso mica solo io baby ma perché stanno ballando Portarti qualcosa Ora sono molto emozionato perché dopo la total positivity è il momento di presentare una personalità molto molto importante